Tenete conto che l'aspetto economico, cioè il trader che cosa fa in buona sostanza, no, correggimi Jonathan se dico delle castronate, ma in buona sostanza quello che fa è di comprare qualcosa ad un valore e rivenderlo ad un altro valore, cercando di trarre profitto da questa differenza di valore, ok? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Perché poi sappiamo che c'è dietro un lavoro ben più ampio, però l'idea è che io dedicando quelle due ore al giorno riesco a raggiungere la mia totale libertà finanziaria, ok? Questo è il mito di oggi. Quindi i soldi sono un aspetto fondamentale, quindi vuol dire che noi veniamo educati a dare così tanta importanza a questo aspetto fin da quando siamo piccolini, fin da quando siamo bambini e poi crescendo sempre di più. Gli oggetti che gli altri hanno, gli oggetti che anche io vorrei comprare, le cose che vorrei poter fare, tutto viene veicolato da questo aspetto, l'aspetto economico, quanti soldi ho a disposizione per fare queste cose. Allora capite che mettermi nella condizione di poter guadagnare, ma allo stesso tempo perdere un sacco di soldi, così, in un clic, sottopone il mio sistema ad uno stress che è elevatissimo. Soprattutto quando io inizio ad avere la percezione di star perdendo il controllo. In quei momenti, nei momenti di perdita di controllo, nei momenti in cui inizio ad avere la percezione di non avere abbastanza risorse, di non star capendo esattamente quello che sta succedendo, di avere confusione mentale, cose che voi conoscete benissimo. In quei momenti di perdita del controllo, io inizio a maturare, a generare stress. Questo stress, vedete, non è solo una parola, è chimica. Cioè il mio sistema nervoso inizia a secernere glucocorticoidi, inizia ad esserciare ormoni dello stress. Ok, il cortisolo. Cosa fa il cortisolo? Il cortisolo è potentissimo, un ormone che prende dal sangue gli zuccheri, li trasforma in adrenalina e in noradrenalina. E' quella roba che voi a un certo punto dovete attivare, perché non sapete bene come gestire la cosa. Allora parte adrenalina, noradrenalina. Questo ti dà anche un grande senso di eccitazione. Però ti logora nel tempo, perché prendo gli zuccheri da sangue. E questo è un processo del quale dovrete diventare consapevoli, ecco se volete imparare a capire come funziona la vostra mente. Di fatto, ecco, c'è uno studioso che si chiama Daniel Kahneman, che è un personaggio importante. Un personaggio importante perché nel 2002 lui ha vinto il premio Nobel per l'economia. Lui è uno psicologo, ma ha vinto il premio Nobel per l'economia. Perché? Perché è stato il fondatore, insieme ad un collega, di un percorso che si chiama economia comportamentale, un percorso di conoscenza. Cioè Kahneman che cos'è che ha studiato? Cos'è che ha capito? Quello che state leggendo, no? Cioè ha capito che le persone, benché sappiano perfettamente quello che dovrebbero fare, non lo fanno. E ha indagato, con ricerche scientifiche strutturate, il perché di questa cosa, perché accade questo. E ha dato delle risposte che oggi cercheremo di vedere un attimino insieme. Ok? L'economia comportamentale, come leggete, studia come il giudizio umano in condizioni di incertezza segue delle regole euristiche, si chiamano. Non so se avete, come dire, familiarità con questo tema. Però diciamo delle scorciatoie di pensiero, ok? Che sono semplici, efficienti, basate sull'intuito e sulle circostanze contingenti, per risolvere problemi che però sono molto complessi. E più aumenta lo stress, più il mio sistema tende ad usare queste euristiche. Capiremo meglio quali sono. Per farvi un esempio, giusto per capire, tempo fa in America è successa una cosa molto particolare, no? Molto, molto curiosa, no? Che appunto è stata poi indagata. Cioè a un certo punto, cosa è successo? È successo che in un certo distretto nel Nord America, da un anno con l'altro, le statistiche dei poliziotti morti durante degli scontri a fuoco era saltata in aria. Cioè da un anno con l'altro il numero di morti durante degli scontri a fuoco era aumentato tantissimo, quasi raddoppiato. Questo dato ovviamente ha allarmato tutto il sistema, per cui sono stati mandati degli ispettori per domandare in quello staterello ma perché sta succedendo questa cosa. E la cosa curiosa è che dopo diversi mesi di indagine non era stato trovato nulla, non c'era apparentemente nessun motivo che giustificasse il fatto che da un anno con l'altro molti più poliziotti durante gli scontri a fuoco fossero morti. A un certo punto, tuttavia, durante queste indagini si ha una svolta perché l'ispettore va dal coroner, va a vedere quelli che sono tutti i report di queste autopsie che erano state condotte e scopre un dato particolare che non riesce subito a collocare, non riesce subito a capire, ma che però lo incuriosisce. Cioè scopre che questi poliziotti nelle tasche che avevano di ordinanza, tasconi che avevano, sapete, i pantaloni con le tasche laterali, avevano dentro i bussolotti dei proiettili esplosi durante il conflitto a fuoco. E questo dato lascia l'ispettore molto perplesso perché dice ma com'è possibile che questi che stanno lì, che stanno facendo uno scontro a fuoco, quindi stanno per, insomma, a pericolo di morte, altissimo, raccolgono i bussoli. Allora va al poligono di tiro, dove dovete sapere che il poliziotto è così, è proprio da regolamento, deve svolgere almeno due ore alla settimana di attività e osserva questi poliziotti e nota che in effetti vanno a raccogliere questi bussolotti di proiettili dopo che hanno sparato. E lì si meraviglia, dice ma perché? E allora inizia ad indagare e viene fuori una cosa che per lui era stata un po' sconvolgente, ovvero che cosa? Che questi poliziotti da un anno con l'altro avevano dovuto cambiare completamente il loro comportamento. Cioè cos'era successo? Che fino all'anno prima, molto semplicemente, a inizio mese, nella busta paga del mese precedente, a fine mese del mese precedente, ricevevano una quota per i proiettili. Ricevevano tipo 200 dollari che loro usavano per andare a comprare i proiettili. Poi l'amministrazione, giustamente, per fare dei tagli, per risparmiare, a un certo punto ha detto, sai che c'è? Io questi proiettili voglio vederli, perché non so se poi tu dispendi veramente per comprare i proiettili, capisci, o cosa ne fai? Li rivendi, boh, voglio capire. Allora cosa fai? Ti cambio la sistema. Tu, anziché ricevere i soldi il mese prima per quello successivo, ti li do a fine mese, quando tu mi porti un foglietto su scritto quanti proiettili hai usati, che ti deve vidimare quello del poligono di tiro. Per cui i poliziotti cosa facevano? Sparavano, pum, raccoglievano per terra i proiettili e si li mettevano in tasca. Questo tutti i giorni per il loro addestramento di poligono di tiro. L'ispettore in quel momento sbianca e dice, oh madonna. Perché? Perché quei poliziotti erano stati addestrati a fare dei movimenti, costantemente, con ripetitività, costantemente, che semplicemente in un momento di stress acuto, provate ad immaginarvi, uno scontro a fuoco, la mia famiglia, mi pagano 1300 dollari, ok, sto rischiando la vita. In quel momento, e a un certo punto, sparo e ho quel momento di esitazione, di ferma, in cui mi viene da raccogliere il bussolo. E in quel momento muoio. Mamma mia, è impressionante. Ok, e questa ormai è storia. Allora, il punto qual è? È che nei momenti di crisi, nei momenti di stress, quando siamo sottoposti a delle situazioni di stress, il nostro sistema cambia il suo funzionamento. Kahneman, perché è stato un grande? Perché lui ha scritto un libro che si chiama Pensieri lenti e pensieri veloci. e ha scoperto che nel nostro sistema nervoso, in termini evoluzionistici, quindi da qua centinaia di migliaia di anni, si sono sviluppati due sistemi differenti, che sono proprio differenti. Cioè vuol dire che nel nostro cervello noi abbiamo percorsi neuronali che si differenziano in due sistemi. È come se nel nostro cervello noi avessimo due persone. Una è una persona calma, tranquilla, riflessiva, che pondera bene le cose, che analizza i dati, un nerd che essenzialmente sta lì, si fa tutti i suoi ragionamenti, poi pondera è quasi anche un freddo calcolatore, se vogliamo, no? Perché poi arriva a fare... L'altra è una persona impulsiva, estrema, istintiva, veloce, rapida, che va ad impressione, che va a sensazione, che usa quelle che appunto vengono chiamate delle euristiche, quindi queste scorciatoie di pensiero basate sulle esperienze precedenti o come vedremo su tutta una serie di distorsioni del pensiero che affliggono noi esseri umani. Cosa succede? Che nell'arco dell'evoluzione questi due sistemi ci hanno permesso di sopravvivere, perché se io sono in una situazione di emergenza, per cui...